Tramite Enac abbiamo convocato questa riunione per la consultazione pubblica per quanto riguarda la procedura di via. Io sono Paolo Arena, sono il presidente della Catullo SPA, alla mia destra c'è l'amministratore delegato Paolo Simeoni, alla mia sinistra abbiamo l'ingegner Borgato di Enac con la sua collaboratrice. Costantino Pandolfi con la sua collaboratrice Taccalite e poi siamo accompagnati dal nostro studio che ci ha aiutato a redigere il piano con l'ingegner Borgato e la dottoressa Mallinverni. Abbiamo poi personale dell'aeroporto, l'ingegner Carli, l'ingegner Adami e la dottoressa Redolfi. Si è tanto sentito parlare dello sviluppo aeroportuale di Verona, oggi è il primo atto ufficiale che noi facciamo per dare inizio poi a quello che sarà il piano di sviluppo aeroportuale, quindi lascerei immediatamente la parola ai miei colleghi per entrare immediatamente nel vivo della presentazione e quindi raccogliere anche da parte vostra delle prime osservazioni. Grazie.